Pugno di ferro su chi esce di casa senza valide motivazioni. I controlli sulle strade della Retino proseguono infatti senza sosta soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti in macchina. Solamente nella giornata di domenica sono così scattate 59 denunce, tutte per violazione dell'articolo 650 del codice penale, ossia l'inosservanza alle disposizioni delle autorità. Tra le denunce una anche per falsa dichiarazione. 25 invece le violazioni contestate dalla polizia municipale di Arezzo solamente nel comune a Retino recidiva anche un'attività commerciale di Saione. I vigili infatti per la seconda volta hanno accertato che l'impresa non stava rispettando le ordinanze previste per il contenimento del coronavirus. Il sindaco ha così già provveduto al ritiro immediato della licenza dell'attività. È stato inoltre sempre Alessandro Ghinelli a firmare un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di una Retino che non voleva sottoporsi all'esame del tampone. Perché questa persona non si è resa conto che impedendo all'azienda, ai tecnici dell'azienda di fargli il prelievo per verificare la sua positività o meno al virus, lui gioca non solo con la sua salute e già questo sarebbe grave, ma gioca purtroppo con la salute degli altri. E questo non è assolutamente tollerabile. Quindi trattamento sanitario obbligatorio, domani mattina la Polizia Municipale andrà a trovarlo e lui si è convinto a farsi fare il prelievo in maniera diciamo non coercitiva. Però è comunque soggetto al trattamento sanitario obbligatorio. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio, infine, sono state ben a 135 le denunce che hanno interessato il territorio provinciale a Retino per un totale di oltre 700 controlli effettuati.